Allora sono qua in solidox e voglio trovare un materiale con un certo modulo di elasticità però questo modulo di elasticità è in libri su pollici cioè nel sistema americano ok però come faccio vado qui in materiale modifica materiale e naturalmente qui ho nel sistema internazionale come si vede qua newton su metro quadro diciamo la pressione però posso cambiarla qui dunque sistema internazionale newton a millimetro quadro ha il metrico tradizionale e l'inglese dunque switch sull'inglese ok switch sull'inglese e il modulo elastico io vedo che è 3.022.811 PSI ok e invece io voglio 10.7603 PSI e allora provo vari materiali vado per esempio a provare questo ma sono fuori ok ho 10 ho bisogno dunque proviamo lega di alluminio lega 10.60 ed è qui perché io ho 10.007.603 che è quello che volevo e dunque posso switchare tra le varie unità di misura qui ok e dunque non è necessario che mi faccia i calcoli andando ad agire qua riesco ad avere le varie unità ok di misura inglese metrico e questo è certe volte è comodo e dunque io faccio applica chiudi e dunque il mio materiale necessario per la simulazione sarà questo va beh spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima arrivederci